il crono programma del piano vaccinale della regione Piemonte. Vi ringrazio di essere sempre presenti e sempre attenti. Vi chiedo soltanto, permettetemi una fortesia istituzionale come Presidente, questo è un tema estremamente attenzionato dall'opinione pubblica, come voi ben sapete, e questa conferenza stampa ha lo scopo di dire in modo assolutamente chiaro ed inequivocabile quelle che sono le modalità e i tempi, in una situazione che come ben sapete è figlia spesso di fattori romani relativi alla somministrazione dei vaccini e che impongono un'immediata rimodulazione da parte della regione. Quindi in una situazione complicata perché noi evidentemente adesso vi presentiamo il piano vaccinale aggiornato a oggi sulla base dell'ultimo incontro di ieri, che Rebus Sixtantibus, cioè nella situazione attuale delle consegne annunciate dal governo e confermate nel piano che ci hanno trasmesso, naturalmente ha una sua coerenza come sempre il piano avuto fin dal primo giorno, tant'è che mentre altre regioni hanno avuto situazioni di affanno, noi non siamo mai andati in affanno, e abbiamo saputo sempre compensare anche gli eventuali riduzioni che ci venivano comunicate all'ultimo momento attraverso spostamenti tra aziende del territorio. Però quello che vi voglio chiedere è proprio di aiutarci in questa comunicazione, noi cercheremo di essere sempre più chiari possibili, però oggi ho visto un giornale, non cito quale giornale, ma cito il titolo che diceva cambia tutto il piano vaccini, ecco questo concetto di cambia tutto, rischia di essere foriero di cattive interpretazioni, perché in realtà non cambia un bel niente, nel senso che come vedrete le modalità con cui noi approcciamo il piano hanno una loro coerenza fin dal primo giorno, quello che cambia sono i tempi e i giorni, nel senso che a seconda della consegna delle munizioni, così potremmo dire, da parte di Roma, naturalmente noi moduliamo il cronoprogramma, ma non cambia nulla per quanto riguarda l'apporto dei medici di base nel rispetto dell'accordo con noi sottoscritto, non cambia nulla per quanto riguarda le modalità di chiamata, le modalità di prenotazione, che quelle sono e quelle rimangono e che cerchiamo adesso di esporre in modo ancora più chiaro ed esaustivo per tutti quanti. Ora, le fasi di vaccinazioni, il piano vaccinale che noi vi presentiamo è un piano coerente con le disposizioni nazionali attualmente vigenti e attualmente comunicate, lo sottolineo sei volte perché è coerente con la riunione di ieri sera, ultima riunione fatta con il governo e con noi presidenti di regione. Il piano vaccinale per il quale ringrazio naturalmente la presenza del commissario Rinaudo e del commissario Coccolo e di fronte a me del dottor Presti, del dottor Ravello e alla mia sinistra naturalmente prima di tutti del mio assessore. Ci sono collegati il dottor Emil Paolo Manno e il dottor Gianfranco Zulian dal DIRMEI che ringrazio anch'essi. Il piano di vaccinazione prevede quattro fasi, le fasi della campagna di vaccinazione sono così composte, dietro di me ci sono le slides che Jose vi trasmetterà insieme al comunicato stampa. Le quattro fasi di vaccinazioni sono la prima fase, operatori sanitari e sociosanitari, ospiti delle RSA e questa è la prima fase, secondo la prima definizione che era stata data da Roma, alla quale la regione Piemonte ha associato la prima fase B, quindi la seconda componente, che sono le professioni sanitarie operanti nell'ambito sanitario, odontoiatri, farmacisti, veterinari, biologi, chimici, fisici, psicologi, ostetriche, tecnici di radiologia, medica, di riabilitazione e prevenzione, informatori farmaceutici, questi sono la prima fase B e poi la prima fase C che sono gli over 80 ospiti, o meglio non ospiti dell'RSA perché quelli all'interno dell'RSA sono già stati tutti vaccinati o lo saranno entro il 21 di febbraio, seconda inoculazione. Da ieri nella prima fase entrano gli over 80, quindi ufficialmente nella prima fase il governo ieri ha aperto agli over 80, che noi avevamo già inserito nella nostra programmazione, come immediatamente in partenza al 21 febbraio alla conclusione della fase 1, ma vengono ricompresi nella fase 1, quindi diventano la coda della fase 1. La fase 2 è quella che riguarda chi ha più di 60 anni, soggetti fragili, soggetti a rischio, il personale scolastico ad alta priorità, quindi non il personale scolastico in genere che fa parte della fase 3, ma il personale scolastico con caratteristiche di alta priorità. Poi abbiamo la fase 3, il personale scolastico, i servizi essenziali, ad esempio le forze dell'ordine che sono le forze armate, la polizia di Stato, la polizia penitenziaria, la polizia municipale, la guardia di finanza, i carabinieri, i carceri, luoghi di comunità, per comunità si intendono le comunità semiresidenziali della nostra regione, e le persone con pluripatologie moderate. La fase 4, la popolazione rimanente, quindi queste sono le quattro fasi della vaccinazione in Piemonte, quando partono e quando finiscono, questi sono i soggetti che coinvolgono, quando partono e quando finiscono, cioè il crono programma. La fase 1A, ricordate, personale sanitario, per RSA operatori ospiti, finisce in Piemonte il 21 febbraio, finisce il 21 febbraio con la seconda inoculazione a tutti, garantita a tutti, come diciamo fin dal primo giorno, attraverso l'utilizzo del vaccino Pfizer e del vaccino Moderna. La fase 1B, che è quella che noi abbiamo ampliato in Piemonte, ricordate a tutte le professioni sanitarie e operate in abito sanitario, il dentista per usare un esempio, finisce il 15 marzo con la seconda inoculazione a tutta la platea della fase 1B, con il farmaco, o meglio con il vaccino Pfizer e Moderna. La fase 1C, che è la fase degli over 80, inizia il 21 febbraio, come abbiamo detto a inizio settimana e confermiamo, ma non inizia con un vaccine day che ha l'idea di essere una campagna promozionale che poi finisce, inizia il 21 e consigua il 22-23 nei giorni a venire. Il 21 viene messo come giorno iniziale, ma è l'inizio della campagna che ci vede impegnati nelle modalità che poi l'assessore Riccardi vi spiegherà nel dettaglio. Quindi la prima fase finisce il 21 febbraio per la prima platea, finisce il 15 marzo per la platea che noi in Piemonte abbiamo, d'accordo col commissario Alcuri, allargato a tutte le professioni sanitarie e inizia il 21 febbraio per tutti gli over 80, per tutte le tre categorie usiamo Pfizer e Moderna. La fase 2 inizierà al termine della fase 1, sempre utilizzando Pfizer e Moderna e riguarderà, guardando la slide precedente, quelli che abbiamo detto prima, gli over 60 per capirci, soggetti fragili, soggetto dal turismo. La fase 3 inizia l'8 di febbraio, cioè inizia la prossima settimana, perché usiamo il vaccino AstraZeneca, le cui consegne arrivano tra l'8 e il 10 febbraio. La fase 3 è quella con la quale noi iniziamo a vaccinare, quindi dall'8 di febbraio, le forze armate, i carabinieri, la Guardia di Finanza, i servizi pubblici essenziali, la Polizia di Stato, la Polizia Penitenziaria, le carceri, la Polizia Municipale e tutti quelli che vi ho detto, ma soprattutto forze armate, vediamole da una parte per capirci, è il personale scolastico, sia docente che non docente, per il quale usiamo il farmato AstraZeneca. Naturalmente parliamo di farmaco AstraZeneca che viene utilizzato per tutte queste categorie per chi non ha più di 55 anni, perché se ha più di 55 anni ricade nelle altre diciture, in quanto usiamo un farmaco che AIFA ha raccomandato di utilizzare per le sue caratteristiche per una popolazione che abbia meno di 55 anni. Quindi noi iniziamo per capirci con i militari, i carabinieri, con i professori, con gli insegnanti, con la fase 3, dalla settimana dell'8 febbraio e dal 15 di febbraio, nello specifico, iniziamo a raccogliere le adesioni del personale scolastico, attraverso il meccanismo della piattaforma all'uopo predisposta, cioè predisposta per questo, che è la piattaforma che raccoglie le adesioni del personale scolastico. La fase 4 naturalmente è la ultima e la fase per la quale attendiamo le indicazioni di apertura da parte del governo. Slide successiva con cui lascio la parola a Luigi. Vediamo nel dettaglio come li facciamo questi vaccini, come chiamiamo le persone, chi fa materialmente il vaccino. Perché oggi ho letto che dietro front dei medici, i medici non hanno fatto nessun dietro front, anzi i medici saranno loro proprio agli over 80 inoculare, come diciamo dal primo giorno, la dose. Quindi avvio fase 1C, over 80, iniziamo il 21 febbraio. Le modalità le illustra l'assessore Icatti. Perfetto, grazie Presidente. Ha già spiegato molto bene come funzioneranno le fasi. Sapete che il governo e il Parlamento ha identificato queste quattro fasi, poi c'è stata una suddivisione della fase 1, come è A, B e C, come è stato spiegato bene. Adesso partiremo a breve, come diceva il Presidente, con la fase 1C per gli over 80. E negli stessi momenti partiremo con la fase 3, quindi paradossalmente per una mancanza di fornitura di vaccini e per il limite che ha posto AIFA sul vaccino di AstraZeneca, vaccineremo fase 1 e fase 3, con due obiettivi identificati, con due azioni parallele. Uno è abbassare la letalità, quindi questo si fa con la fase 1 e fase 2. E l'altro, limitare la diffusione del virus e quindi la probabilità che possa evolvere con delle varianti assai pericolose e in realtà non si sa esattamente come va da evoluzione. E cosa succede nella fase 1C nella vaccinazione degli over 80? Abbiamo ricevuto le indicazioni della tuttura commissariale. Sostanzialmente ogni medico di base che ha un elenco di pazienti determina sulla base dell'età grafica, che ovviamente forniremo noi a loro l'elenco degli assistiti con l'età, determina le priorità sulla base anche delle patologie che i soggetti anziani hanno. E su questo argomento chiaramente troverà indicazioni in una circolare ministeriale emananda a breve, di cui abbiamo una bozza, che chiarifica quali sono le patologie, quali hanno la precedenza eccetera. Quindi compilando una scala di priorità le registra sulla piattaforma appositamente creata per questa attività e le aziende sanitarie inviano, hanno questi elenchi quindi, possono inviare mail, sms o lettera alle persone da vaccinare dove verrà indicato con precisione, il luogo dove saranno vaccinati, che non è lo studio medico per evidenti motivi di evitare il sembramento, la data e l'ora in cui dovranno ritrovarsi. La logistica del farmaco la fa l'azienda sanitaria, cioè saranno le ASL attraverso le nostre strutture e anche utilizzando eventualmente i volontari della protezione civile, anche i volontari delle associazioni delle croci, ordinaranno la logistica, porteranno il vaccino e il medico e i medici di base in quella seduta vaccineranno i propri assistiti. Nell'accordo che abbiamo fatto con i medici di base sarà possibile anche uno scambio di assistiti. Non è vincolante il fatto che il medico vaccini solo i propri assistiti, ma ci può essere una intercambiabilità. Abbiamo identificato 61 punti in Piemonte di soggetti da vaccinare, per 358.242 anziani ancora da vaccinare, perché una parte, 15.000 li abbiamo già vaccinati nell'RSA. L'elenco di questi punti ovviamente può essere incrementato, possiamo andare a trovare ulteriori sedi in accordo con i sindaci per effettuare delle vaccinazioni determinate ad hoc. Con questa modalità siamo pronti ad affrontare la vaccinazione compatibilmente con l'arrivo delle dosi Pfizer e Moderna, che sono le uniche che possiamo utilizzare per gli over 80, scorporando quelle necessarie per fare le seconde dosi della fase 1A, cioè dei sanitari, che però, come diceva anche il Presidente, si concluderà a breve. Ma in realtà la fase 1A, cioè dei sanitari e delle RSA, formalmente si concluderà il 21 febbraio. È evidente per un aspetto tecnico che c'è un turnover nelle strutture sanitarie, ci sono, ahimè, delle uscite, ma anche degli ingressi, noi continueremo a passare nell'RSA, vaccinare sia i nuovi ingressi, gli orpiti, sia gli eventuali soggetti, le persone, gli operatori nuovi assunti nell'RSA. Quindi si conclude formalmente, ma in pratica continueremo la vigilanza su queste strutture. Mentre per la fase 1C, chiedo scusa, è necessario che questa procedura sia supportata da un consistente arrivo di vaccinazione. Ma la procedura è concordata con i medici di base ed è previsto un pagamento di 6,16 euro per ogni inoculazione, come disposto dall'accordo collettivo nazionale con i medici di base. Sappiamo che a Roma stanno studiando a livello nazionale un accordo che forse avrà delle modalità diverse. Se arriverà l'accordo nazionale, noi ovviamente, valendo erga omnes, lo applicheremo, ma nell'emore noi siamo pronti con il nostro accordo a procedere e a pagare i medici come concordato con loro. Un ultimo punto sulla fase 3, cioè quella che si avvierà a breve. Noi abbiamo, nella settimana dall'8 febbraio, diceva il Presidente, riceveremo come minimo un 20.000 dosi di vaccino AstraZeneca e la settimana del 15 altrettanto. E poi saranno increscendo, perché questo è stato assicurato proprio dalla ditta AstraZeneca. Con queste dosi partiremo, visto che hanno una capacità operativa di auto-inoculazione, diciamo, le forze dell'ordine hanno proprio il personale medico e sanitario, quindi partiremo con le forze dell'ordine. Contestualmente ci sarà la prenotazione del personale scolastico, una preadesione su una specifica piattaforma e procederemo quindi dalla settimana del 15 febbraio a vaccinare il personale scolastico. Ripeto, questi sono tutti i dati che noi vediamo col beneficio di inventario che le dosi promesse arrivino nella misura e nei tempi che la struttura commissariale di Arcuri ci ha preventivato. è una macchina molto articolata e potente. È chiaro che se avessimo avuto la possibilità di utilizzare il vaccino AstraZeneca anche per persone più anziane di 55 anni, la cosa sarebbe stata più semplice perché il meccanismo che avevamo ipotizzato e anche scritto negli accordi con i medici e i farmacisti è lo stesso per le vaccinazioni antinfluenzali che prevedeva la logistica dei farmacisti e l'inoculazione da parte dei medici di base, quindi un meccanismo sostanzialmente autonomo sia come logistica che come software di funzionamento. Purtroppo non lo possiamo fare, quindi interveniamo noi con la logistica del vaccino e ci aiutano i medici nella compilazione delle priorità. Su questo c'è una circolare, io ve la poi non appena sarà confermata da Adenas sulle considerazioni delle comorbidità della fase 2 dove sono individuate una serie di priorità tecniche su come disporre le precedenze nella fase 2, cioè tutte quelle persone, eccola qua, i soggetti over 60, i soggetti fragili, i soggetti a rischio e il personale scolastico superiore a 55 anni ad alta priorità, che sono un numero molto elevato di persone le cui priorità sono determinate da una serie di patologie che partono dalla neoplasia, la BCO, le patologie cardiache, diabete, c'è tutto un elenco con dei valori che permetteranno di fare una graduazione anche cronologica sulla somministrazione del vaccino. Io mi fermerai qui e magari poi sentiamo le domande. Grazie a tutti. Grazie Luigi. Quindi fase over 80 come vi ha spiegato l'assessore, modalità, la ribadisco così, noi abbiamo scritto, abbiamo l'elenco di tutte le aziende, a tutte le aziende sono stati indicati, lo vedete dietro di me, il numero degli over 80 che hanno in loro competenze, è stato sottratto il numero di quelli già nell'RSA, in maniera che ogni azienda abbia il target suo delle persone che deve vaccinare, le aziende scrivono ai medici di medicina generale che ricevono ciascuno medico per medico, calcolate che la media di over 80, chiedo supporto a Jose, se me la recuperate, la media di over 80 per ogni medico quant'è? Sono 125 gli over 80 mediamente per ogni medico di medicina generale del nostro Piemonte, quindi numeri perfettamente gestibili. Ognuno di loro riceve la comunicazione dell'azienda, utilizzando la piattaforma Covid a cui loro hanno accesso e sono accreditati, inseriscono l'elenco delle priorità, quindi dei loro 125 li mettono in ordine di priorità, la spiego non da medico, ma la spiego in maniera più semplice, il calcolo di priorità è dato da un rapporto ponderato tra età e patologia della persona, che naturalmente è a giudizio insindacabile del medico perché è quello che lo cura. Il sistema poi unisce le prenotazioni che ha fatto il medico, ha i 60 hotspot o centri vaccinali che sono stati individuati, grazie dottor Rinaldo e dottor Coccolo, 7 punti ad Alessandria, 6 punti ad Asti, 2 punti a Biella, un punto specifico sulla città di Torino, 6 punti sul Torino 3, 7 punti su Torino 4, 6 punti su Torino 5, 2 punti su CN2, 6 punti su CN1, 4 punti Novara, 4 punti VCO, 9 punti Vercelli, vi diamo poi la slide nel dettaglio con luoghi specifici in cui questo avviene. Il sistema unisce la disponibilità, lo spazio, la prenotazione è il medico, il sistema manda l'SMS e dice signor Rossi venga al tal giorno nel tal posto e contestualmente viene informato il medico, naturalmente le prenotazioni sono fatte in modo da condensare medico per medico i loro pazienti, di modo che il medico possa inoculare personalmente nella struttura sanitaria messa a disposizione da noi perché il farmaco va tenuto a temperature di meno 20, il vaccino, quindi come vedete ci conferma l'accordo che abbiamo sottoscritto e ho verificato prima a regione d'Italia con i medici e che trova attuazione piena sulla fase degli over 80. Sulle altre fasi, cioè la fase 3, come vi diceva l'assessore, essendo alcune platee in autogestione, pensate alle forze armate, noi conferiremo i vaccini e c'è un'autosomministrazione, invece sulla scuola stiamo lavorando a un programma che coinvolge anche qui i medici perché usiamo AstraZeneca che è un farmaco che può essere tenuto a due gradi per cui non ha necessità di particolari condizioni di mantenimento. Quanti sono gli oltre ottantenni? Ce l'ha detto l'assessore, vi do due dati perché tutti si chiedono quanto ci mettiamo a farli tutti? Ora, dipende evidentemente da quante munizioni ha il sistema. Noi abbiamo usato, abbiamo l'esercito schierato tutto, pronto, operativo, oggi facciamo circa 10.000 vaccini al giorno, però vi do due parametri che possono credo essere utili. Uno appunto questo, che sono 10.000 vaccini al giorno, 60 punti vaccinali che sono stati individuati. Se calcoliamo che 360.000 sono i vaccini da fare agli oltre ottantenni, sono 6.000 vaccini per ogni punto. Vuol dire in due mesi 100 al giorno, quindi numeri che sono molto gestibili. Ma il secondo dato che vi voglio dare, che è quello che più ci rincuora, è che i medici di medicina generale per quanto riguarda l'influenzale, hanno somministrato in due mesi e mezzo un milione di vaccini influenzali, i nostri 3.200 medici. Per cui se usate questi parametri, noi se arrivano i vaccini siamo perfettamente in linea con i tempi. Questo piano, e chiudo, è fatto sulla base delle indicazioni certificate nella riunione di ieri sera con il governo e che quindi noi siamo in grado naturalmente di garantire, di mantenere punto per punto in tutte le sue fasi. Per giungere solo una parola, il fatto anche di passare attraverso la struttura dei medici di base ci consente anche di risolvere una serie di problemi di privacy non di poco conto nella realizzazione del piano. Però per la fase 4, certamente tutto l'impianto, che è la fase molto più importante come numero di soggetti da vaccinare, tutto l'impianto che noi avevamo previsto con i medici di base e i farmacisti che fanno la logistica, compresa la vaccinazione in farmacia utilizzando il vaccino AstraZeneca, è tuttora possibile, soltanto che è leggermente traslata nel tempo solo perché le dosi che ci arrivano sono un po' contingentate, altrimenti ovviamente sarebbe stata fatta prima. Quindi tutto l'impianto già previsto prima è applicabile successivamente. Dottor Rinaldo mi faceva una specifica. Quando negli over 80 il medico sulla piattaforma Covid, dove già disponeva i tamponi per capirci, scrive che l'over 80enne signor Rossi deve essere sottoposto a vaccino e quindi fa la preadesione, segna anche le condizioni del signor Rossi perché parliamo di persone che a volte sono allettate oppure hanno problemi di deambulazione per cui il sistema prevede la possibilità di indicare se una persona è autonoma in grado di spostarsi, allora il sistema manda l'SMS, la mail o la telefonata e convoca a tal giorno e a tal ora nel centro vaccinale. Se la persona invece è a casa, a letto e non può muoversi, viene presa in carico dal sistema sanitario, dall'azienda sanitaria locale che manda direttamente a domicilio medico e infermiere per fare la somministrazione del vaccino. Nel caso in cui ci siano invece problemi di deambulazione, ma la persona possa muoversi, ma deve andare a essere presa e portata, si attiva il meccanismo della protezione civile nelle varie province. Per cui ringrazio anche il dottor Koch. E poi c'è l'ospedaliero che invece viene segnalato e gli viene fatta all'interno della persona che può essere ricoverata in ospedale. Quindi è un piano veramente completo per cui ringrazio tutti quanti. Mi viene segnalato, Jose, che bisogna mandare a tutti queste slide, ve le mandiamo tutte in modo che così possiate avere nel dettaglio le informazioni. Siamo pronti per le domande? Posso farle una io? Mi sentite? Mi sento. Sì, Simona, Simona si è prenotata. Buongiorno, mi sentite? Sì, ti sentiamo bene, prego. Grazie mille. Volevo chiedere, Presidente, quali sono i centri vaccinali identificati a Torino e se, data l'organizzazione che vi siete dati per la somministrazione agli over 80 anni, se i medici di base faranno quindi una sorta di doppio turno, cioè manterranno il loro orario in studio e poi faranno un secondo turno nel centro vaccinale. Queste due cose, grazie. Allora sì, vi mandiamo l'elenco con le slide, c'è anche l'elenco specifico, almeno così avete naturalmente i posti, poi in prossimità della data mettiamo anche l'indirizzo specifico. Vogliamo dare poche informazioni ma chiare, parliamo di un pubblico molto apprensivo, per cui vogliamo essere chiari anche nell'informazione dettagliata, di modo che i nostri over 80 anni sappiano che verranno chiamati dal loro medico perché gli venga somministrato il vaccino e riceveranno poi l'indicazione precisa di dove recarsi. Quindi ti mandiamo i punti vaccinali, invece vi ripeto una cosa che ha detto prima l'assessore, nell'accordo che l'assessore ha sottoscritto con i medici c'è un passaggio molto intelligente che va già nella direzione della medicina territoriale. C'è scritto che non necessariamente il medico che ha in cura il paziente è lui che fisicamente deve fargli la puntura. Vuol dire che se cinque medici si mettono d'accordo di gestire uno spazio, che è lo spazio messo a disposizione dell'ASL, potranno fare i turni loro, essercene sempre uno di loro cinque presente e durante la giornata far passare i prenotati. Quindi credo di aver risposto in questo modo riescono a compensare lo studio. E salvaguardando anche gli orari di apertura degli ambulatori, perché non dimentichiamoci che c'è il Covid, ma ci sono anche tutte le altre patologie, la cronicità da curare. Quindi questo, come diceva il Presidente, è già uno degli elementi che ci ha fatto scrivere quella legge sulla medicina di gruppo, medicina di rete, proprio per dare questa flessibilità di cui anche oggi abbiamo bisogno. Stefano Rizzi, poi ho sentito Alessandro Mondo se non ho capito male la voce. Prego Stefano. Sì, grazie Presidente. Una domanda rapida. Voi avete fatto cenno alla vaccinazione antinfluenzale che per maneggevolezza del vaccino non presuppone un'assistenza anche infermieristica. In questo caso, come verrà colmata, come verrà coperta questa necessità? L'abbiamo visto anche per le vaccinazioni negli ospedali, medico più infermiere. E, seconda domanda, quanto pensate che possa essere mandato come rinforzo da Arcuri? Avete notizie di queste assunzioni del personale sanitario annunciato come rinforzo per le regioni? Grazie. Persone. Allora, inizia prima intanto, poi sul personale di Arcuri intervengo io dopo. Prego, signor. Dunque, l'assistenza infermieristica ovviamente nei punti, nei 61 punti dove noi faremo la logistica, quindi porteremo i vaccini ad un giusto grado di scongelamento per essere inoculati nelle ore successive, viene garantita dall'azienda sanitaria. Quindi saremo noi a mettere personale e in parte sarà composto anche da quello che la gestione commissione di Arcuri ci invierà attraverso le agenzie, l'agenzia interinale, come voi sapete bene, che per il Piemonte e Lombardia, non ricordo il nome, ma affiancherà il personale dipendente. Quindi ci sarà un'assistenza infermieristica ovviamente perché gli standard di vaccinazione previsti a livello nazionale prevedono la presenza di varie figure professionali, medici, infermieri e amministrativi per registrare sul portale delle vaccinazioni l'avvenuta vaccinazione. Presidente, se vuoi rispondere sul resto... Ti dico solo il numero che mi ha detto il Dottor Rinaudo che gli aveva confermato. Attendiamo 181 risorse tra personale infermieristico e personale medico con prevalenza di personale infermieristico perché la iniezione è assegnata al personale infermieristico nel mese di febbraio. Queste sono le previsioni che ci sono state comunicate dal Commissario Arcuri per quanto riguarda l'incremento di personale necessario. Alessandro Mondo, l'avevo sentito io, che voleva fare una domanda. Io volevo fare due domande. La prima relativamente ai centri vaccinali. Cioè vorrei capire esattamente di che tipo di strutture parliamo e soprattutto quali misure verranno predisposte per evitare contagi legati all'affluenza degli anziani presso questi centri vaccinali. La seconda domanda che volevo fare è questa. Considerato che si parlava di rinforzi di personale atteso da Roma, quindi necessità di medici e infermieri, io volevo capire se era ancora aperto il discorso oppure no con i medici cubani che mesi fa avevano dato, mi pare di ricordare, la loro disponibilità a venire in Piemonte, poi questa vicenda si è persa nel nulla. Ritengo che anche per la campagna vaccinale potrebbero rappresentare un contributo importante, semplicemente un flash di aggiornamento. Grazie. Sì, allora per rispondere alla prima domanda ti leggo i posti, poi li vedrai anche tu, così si capisce la tipologia. Noi abbiamo voluto sulla base anche delle valutazioni, anzi sulla base soprattutto delle valutazioni di carattere sanitario, individuare luoghi per la vaccinazione degli over 80 che fossero ben lontani dagli ospedali, proprio perché è consigliabile il più possibile tenere persone fragili lontano dagli ospedali. Quindi sono le sedi che i vari distretti, cioè le aziende sanitarie, hanno poi messo a disposizione e quindi in la maggior parte parliamo di poliambulatori, sono la sedi dei poliambulatori distrettuali che sono nella maggior parte dei casi, ma in alcuni casi, specie nelle province, ci sono luoghi come la Casa della Salute, in alcuni casi come ad Asti c'è la sede comunale che è stata messa a disposizione, uno spazio nella sede comunale, la maggior parte però come vi dicevo sono poliambulatori e sedi di distretto che sono state individuate, poliambulatori, centri prelievi, poliambulatorio, centro prelievi, quindi spazi già di carattere sanitario perché la logistica del vaccino prevede il mantenimento a temperature molto basse e quindi necessita di essere fatta in luoghi in cui la logistica sia controllata e che hanno queste caratteristiche, queste tipologie. Abbiamo proprio questa mattina in una lunga riunione con l'assessore definito anche i tempi di modo che questi spazi durante il vaccino over 80 siano esclusivi, nel senso che non ci sarà commistione tra altri chiamati a fare il vaccino in questi 60 posti durante gli orari dedicati agli over 80, proprio per escludere ogni possibilità di potenziale contaminazione. Per quanto riguarda i medici cubani, i medici cubani avevano dato disponibilità, la disponibilità rispetto all'altra volta, questa volta prevedeva un onere a carico dell'amministrazione regionale perché avevano dato una disponibilità non solo pagando il viaggio ma pagando un onere ai 50 medici e persone infermieristiche che sarebbero venuti per la nostra fase 2. Ricordate che quando le interlocuzioni col governo cubano arrivarono al dunque, la fase 2 era in fase di calante e quindi abbiamo chiesto, visto che c'era questo calo registrato quotidianamente, di poter tenere buona la loro disponibilità proprio per un'eventuale fase 3 o per una campagna vaccini. Li teniamo in stretta considerazione perché sappiamo quanto è prezioso il loro apporto e soprattutto sappiamo che per la fase 4 della campagna noi avremo bisogno di tutti, motivo per cui abbiamo già raccolto grazie anche alla disponibilità dell'ordine dei medici, le disponibilità dei volontari dei medici in pensione che hanno dato proprio la loro disponibilità a partecipare così come degli specializzanti con cui, sapete, la nostra convenzione tra Regione Piemonte e Università è aperta, anzi grazie alla Scuola di Specializzazione di Medicina, grazie all'Università, al Rettore Geuna vi ringrazio sempre perché sono stati preziosi nella fase della pandemia e lo sono anche in questa fase del vaccino. Quindi tutte le occasioni e le opportunità per implementare l'esercito del vaccino vengono colte e vengono di fatto attuate. Se posso permettermi solo di aggiungere, Alessandro, in questo, soprattutto nel mese di febbraio, il collo di bottiglia è rappresentato dalla fornitura di vaccini, non ancora da personale. Quando avremo più, diciamo, approvvigionamenti in maggiormente maggiore quantità, allora implementeremo anche personale. Oggi però il tema è la scarsità di vaccini. Scusate un attimo, completerei la risposta perché la domanda di Mondo sottintendeva in relazione ai punti vaccinali del sistema di sicurezza in quanto bisogna anche rassicurare le persone, gli over 80 che si recano a farsi vaccinare o che saranno destinati in questi punti vaccinali. Questi punti vaccinali sono strutturati attraverso tutti i sistemi di sicurezza qualora si manifestino situazioni di reazioni allergiche, quindi ad esempio il caurello dell'emergenza e via discorrendo. Quindi sotto questo punto di vista non sono punti vaccinali improvvisati ma punti vaccinali costituiti ad hoc. Grazie commissario. Alessandro, stai ancora dicendo qualcosa? Sì, un'ultima domanda, poi mi taccio. Volevo capire se avevate preso in considerazione di utilizzare come centro vaccinale anche l'ospedale da campo allestito al Valentino. Sì, voi sapete che l'ospedale da campo del Valentino il giorno in cui, mi pare forse del 21 gennaio, siamo rientrati in soglia rispetto all'occupazione dei posti letto di terapia ordinaria, lo abbiamo messo in stand by perché quella spia che era l'ultima che avevamo ancora accesa si era spenta e quindi questo ci ha permesso di mettere in stand by la struttura che vuol dire che in 24 ore è naturalmente riutilizzabile. Il commissario Coccolo ha già predisposto un piano di conversione della struttura che naturalmente noi siamo pronti ad attuare per la fase del vaccino di massa e che necessita però ancora di qualche settimana di attesa. Poi vi dirò anche i numeri di questa settimana, ve li anticipo. Però quello che succede in Europa, la fase 3 ci sta evidentemente, la fase 3 non del vaccino, ma la fase 3 della pandemia è un qualcosa che in Italia la stiamo contenendo meglio che nel resto d'Europa, ma è un qualcosa che nel resto d'Europa è realtà. Per cui noi abbiamo deciso mettiamo in stand by, teniamo questi 15 giorni di osservazione, ricordate che arriviamo ai 15 giorni questa settimana dalla riapertura delle scuole, quindi abbiamo anche altri elementi che ci daranno delle indicazioni, in modo che la struttura sia pronta nel caso in cui si ritorni in una fase 3. Dobbiamo essere sempre molto attenti, ricordate tutti che quando parte, parte in tre giorni, quindi è necessario sempre essere molto attenti. Quindi la prudenza si è fatta mettere in stand by perché i numeri ce l'hanno concesso, rimane così scongiurando all'inizio della fase 3 e poi pronta la conversione anche per i vaccini, perché ha tutte le caratteristiche per essere il luogo da fase 4 vaccinazione, cioè parcheggio comodo, entrata e uscita indipendenti, autonome e separate. Il commissario Coccolo ha un piano che è quello che ha predisposto, per cui è in grado di somministrare fino a 10.000 vaccinazioni al giorno all'interno di questa struttura, che al suo interno è naturalmente un ruolo di attesa, ruolo di osservazione, tutte le cose che ci siamo detti. Poi al termine della conferenza vi darò i dati dell'RT della settimana. Altre domande? Grazie. Posso fare una domanda io? Se mi sentite, Bosonetto, la stampa Cuneo. Sì, buongiorno, che piacere. Buongiorno, buongiorno Presidente, buongiorno Assessore, buongiorno a tutti. Sono rapido, ho sentito prima parlare del possibile intervento dei medici andati in pensione, ma che volontariamente potrebbero tornare in servizio temporaneamente per rinforzare l'esercito dei vaccinatori. Volevo chiedere, da alcuni di loro ho però sentito dire che ci sarebbero ancora questioni aperte sulla copertura assicurativa. L'unica cosa che chiedono naturalmente i medici in pensione, che lo fanno volontariamente e gratuitamente, di questo li ringraziamo, è naturalmente la copertura assicurativa per la loro prestazione sanitaria. Lo abbiamo segnalato all'interno delle riunioni col governo, il commissario Alcuri ha previsto che con l'avvio della fase 4, proprio per favorire e allargare il più possibile la schiera dei vaccinatori, a livello normativo nazionale verrà inserita la previsione della polizia assicurativa, che pertanto potremmo pagare direttamente noi come ente pubblico, con soldi regionali, in quanto autorizzati dal sistema nazionale a svolgere il vaccino. Presidente, buongiorno, sono Lian Pellissier, grazie per i dati che nel frattempo sono arrivati. Avevo invece una domanda che usce un po' dal seminato. La domanda è molto semplice, cosa mi dice del nuovo governo? Il Presidente Berlusconi ha detto che Draghi va bene, allora volevo capire un po' anche da lei, cercare di capire un po' dalle ragioni che siete fatti e anche per capire, parlando di Covid, se lei auspica qualche cambiamento oppure chi ha lavorato finora merita una riconferma. Non voglio esattarmi alla domanda, però questa è la conferenza stampa dei vaccini e quindi vorrei finire solo la parte sanitaria che è quella principale. Evidentemente da Torino e dal Piemonte guardiamo con attenzione a quello che sta cadendo a Roma. Io faccio parte di una coalizione e la mia coalizione sta avventando con le diverse sensibilità di quelli che ne fanno parte quello che è l'atteggiamento migliore da assumere nell'interesse del Paese. Ora andrei avanti sui vaccini però, grazie. Scusate, non ho solo afferrato il numero delle vaccinazioni che si potrebbero fare ogni giorno, non ho sentito il numero. Allora, a seconda di quanti vaccini abbiamo sarebbe la risposta naturalmente più normale, perché noi a Fisermonica abbiamo ampliato fino ad arrivare a 10.000 vaccini al giorno, noi stiamo facendo 10.000 vaccini al giorno, perché ci siamo stati parametrati su quei 40-50.000 a settimana, per cui calcolando dal lunedì al venerdì se ne facevano 10.000 al giorno. Naturalmente se potessimo farne 20.000 ne faremmo tranquillamente 20.000. Lo teniamo come parametro di riferimento perché con i dati che ci ha confermato ieri il commissario Alcuri, noi abbiamo la possibilità di avere e di individuare una progressione, una tempistica che come dicevo ci permette di garantire il cronoprogramma che vi abbiamo comunicato all'inizio. I 10.000 sono fatti perché se voi fate il calcolo che gli aventi diritto o costantenni dovrebbero essere circa 350.000, fate il conto di quello che ci potrebbe volere per vaccinare tutti, ammesso che arrivino i vaccini. Ma l'altro dato che abbiamo detto è che il sistema sanitario piemontese grazie ai medici di base ha somministrato un milione dei vaccini in due mesi e mezzo per gli anti-influenzali. Quindi queste sono le potenzialità. Il terzo parametro di riferimento è che 360.000 diviso 60 fa 6.000 e quindi con 6.000 inoculazioni per ogni 100.000.